Sei un po' più ottimista nei confronti della possibilità che ci sia un riscatto effettivo, uno scatto, un cambiamento? Io penso che la musica serva moltissimo per migliorare le cose. Non è vero che non serva a niente, che la gente ascolta e poi vi passa. La musica dà un'idea anche di come la pensano quelli che la fanno, la musica naturalmente, che sono degli esempi anche in generale. Però dipende da cosa ascoltano e da quello che viene passato, che viene offerto. Non stiamo parlando della musichetta, perché diceva lui il 99% di roba che passa in radio non dice niente. Stiamo parlando di chi ci lavora su, si spreme la testa, le meningi e il cuore per farlo. Per cui queste cose non sono semi buttati sulle sabbie, vanno benissimo. Se fanno qualcosa lasciano sempre, dei segni li lasciano. D'altronde l'arte ha questo compito, direi, di tutti i tipi, il cinema, la pittura, qualsiasi tipo d'arte ha il compito di svegliare le coscienze, di dare dei punti di riferimento alla gente, soprattutto ai giovani, ai ragazzi. E io credo che oggi si faccia della bella musica in Italia. Ma in merito a questo, come percepisci il fatto che ci sono stati un sacco di giovani che sono stati colpiti dalla tua canzone di Sanremo? Ma io credo soprattutto per il testo e anche per il comportamento. Forse mi hanno visto, per quello che in realtà sono, anche se faccio un po' lo sbruffone, per una persona abbastanza modesta, umile, abbastanza timida anche, senza nessuna presunzione. E poi perché il testo era semplicissimo, parlava delle cose che non vanno e delle cose che vanno. Con un tentativo di lirica, un tentativo, senza esagerare troppo. E poi credo anche la passione con cui è stata cantata, che è la cosa di cui abbiamo parlato oggi. Se manca la passione, manca tutto in questo mestiere. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma non arrivi da nessuna parte. E più ne hai di passione, meglio è. Forse anche si sono sentiti in qualche modo sostenuti da te, che li hai citati nella tua canzone. Essere riconosciuti da una persona, da una figura come te, secondo me l'ha risvegliata, li ha colpiti. Sì, mi pare strano che pochi usino il riferimento agli studenti, ai ragazzi in generale sì. Ma agli studenti no, chissà poi... E agli operai, mi ricordo una canzone, strane quelle politiche di una volta in cui la parola operaio fosse citata dentro. E ho anche questo piccolo coraggio di metterle queste due parole, studente e operaio. Perché facevano parte di una commistione importantissima negli anni d'oro della contestazione e che poi si è persa, perché ultimamente non si parla più di studenti operai insieme. Però sono stati una forza importantissima per il rinnovamento. Grazie a tutti.